Doppia manifestazione dei sindacati sotto la pioggia, sfila la CGL per le strade di Reggio, presidio di Cisle Will davanti alla prefettura. Cinquantenne Reggiano aggredisce commessa dei petali e scappa con dei gioielli, ma viene catturato dalla polizia poco dopo. Otto anni e otto mesi di condanna per l'ex calciatore della Reggiana Michele Padovano per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Comuni e associazioni firmano un patto collettivo per cercare di migliorare la qualità del torrente crostolo. Continua la marcia trionfale del basket reggiano, la Trenkwalde respugna anche Ostuni ed è prima in classifica, la Reggiana perde anche in casa col Taranto e si trova in zona play out. Lunedì 12 dicembre, buona serata a tutti e benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Una settimana di scioperi contro la manovra Monti che rischiano di paralizzare anche la provincia reggiana. Fermi i trasporti pubblici giovedì e venerdì, mercoledì sospese le attività di Irene e la raccolta rifiuti, il pubblico impiego il 19. Stamattina migliaia di persone ai cortei di CGL Cisle Will, ma sentiamo tutti i particolari nel servizio. I lavoratori e i pensionati di Reggio oggi hanno dovuto scegliere da che parte stare per rivendicare i propri diritti contro la manovra lacrime e sangue del governo Monti. Da una parte la Cisle e la Will, un nutrito gruppo di manifestanti, ha presidiato la prefettura in vista dell'incontro dei segretari col prefetto. Dall'altra da Viale Montegrappa, Piazza Prampolini, hanno sfilato migliaia di persone in corteo con la CGL. Sindacati separati in casa, dunque la causa di separazione è l'avvertenza Fiat che vede protagonista la FIOM contro l'accordo separato. Lo sciopero divisi non è sicuramente colpa né della Cisle né della Will locale. Noi ci siamo attenuti esattamente a quello che le confederazioni nazionali Cisle e Cisle Will hanno deciso, ahimè, la CGL, penso che una grossa parte della CGL dell'Emilia Romagna abbia completamente dimenticato un grande senso di unitarietà. Intanto nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra i segretari delle tre confederazioni locali per raggiungere un accordo sulle prossime manifestazioni. Non mancheranno infatti nuovi presidi, a cominciare da quello del pubblico, perché l'incontro di ieri dei segretari generali con il presidente del Consiglio ha lasciato poche speranze. Margherita Salvioli, come è andato l'incontro in prefettura? Beh, è un incontro in cui abbiamo incontrato il vice prefetto, abbiamo consegnato a lei le nostre richieste che sono poi quelle elaborate unitariamente con CGL e Cisle Will a livello nazionale che saranno oggetto dell'audizione. Soprattutto le abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per una manovra che in tre anni peserà sulle famiglie per 8.000 euro, più di 2.000 euro all'anno e crediamo che alcune famiglie non saranno in grado di sostenere questo carico. E veniamo alla crona Carapina questa mattina al centro commerciale I Petali al Giglio nel negozio Eoro. Un uomo è entrato armato nella gioielleria e dopo aver strattonato violentemente la commessa è scappato con un rotolo di gioielli dirigendosi a piedi verso l'uscita. L'allarme è scattato immediatamente e la polizia che ha circondato la zona è riuscita a bloccarlo e a recuperare l'area furtiva. L'uomo Tiziano Lugli, un cinquantenne modenese, aveva ancora con sé la pistola che poi risultata essere un giocattolo. Cambiamo argomento, per ora si tratta di un orientamento, ma la fondazione Manodori sembra pronta a rischiare tutto per sottoscrivere in toto l'aumento di capitale richiesto da Unicredit. Anche se a sbarrare il passo a questa ipotesi ci si mettono tutti i partiti politici con l'eccezione solo del PDL. Questo è il quadro emerso dalla riunione congiunta delle commissioni affari istituzionali di comune e provincia che si sono recate insieme alla Camera di Commercio nella sede della fondazione Manodori ad ascoltare le ragioni del presidente Gianni Borghi. La Manodori ha a disposizione tre opzioni, ricapitalizzare in toto Unicredit, per questo servono circa 50 milioni, partecipare solo in parte all'aumento di capitale o non farlo affatto. I vertici di Piazza del Monte sarebbero tentati dalla prima strada e per percorrerla servirebbero in pratica due strumenti, un indebitamento con le banche per comprare le azioni e un contratto cosiddetto call per poterle rivendere. In base a questo tipo di strumento finanziario la Manodori avrebbe la possibilità di rivendere entro dieci mesi dall'acquisto le azioni allo stesso prezzo di mercato a cui le ha acquistate. Tra una settimana primo congresso provinciale del PDL che vedrà due mozioni per altrettanti candidati a coordinatore del partito. Da una parte Liborio Catagliotti, dall'altra Massimiliano Camurani e proprio questa corrente di maggioranza ha ufficializzato le sue candidature. Vedo anche stamattina presenze di persone che lavorano sul territorio seriamente, tanti eletti, tanti coordinatori e anche tanta gente nuova. I giovani sono presenti anche questa mattina che stanno lavorando da tempo anche e soprattutto sulla città, sono nella nostra squadra, i giovani della Giovane Italia, il Movimento Giovanni e del Popolo della Libertà e siamo contentissimi di averli con noi perché uniamo il nuovo, il rinnovamento dei giovani, l'energia, la carica anche dei giovani con l'esperienza di chi da tempo lavora nel partito. Questo è il momento di fare il passo in avanti che va a costituire il PDL veramente. Io credo che noi in questa settimana continueremo a lavorare seriamente come abbiamo fatto fino adesso e che otterremo un buon risultato perché abbiamo un progetto, una squadra ottimi, vincenti. L'ex giocatore della Reggiana Michele Padovano è stato condannato a 8 anni e 8 mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Il PM aveva chiesto la condanna a 24 anni. Padovano era stato arrestato il 10 maggio 2006 in un'operazione contro il traffico internazionale stupefacenti per tonnellate di hashish provenienti dalla Spagna. Era poi rimasto ai domiciliari fino a febbraio 2007. Una parte del procedimento si è chiuso con un giudizio abbreviato al termine del quale 34 persone sono state condannate. Il Tribunale ha ritenuto che Padovano abbia preso parte all'associazione per delinquere e non fosse un finanziatore, come sosteneva la Procura in base ai prestiti di 100 mila euro all'amico d'infanzia Luca Mosole, ritenuto il capo della banda di trafficanti. L'attaccante ha indossato la maglia della Reggiana dal 93 al 95 ed è stato protagonista con 10 gol del miracolo della prima salvezza in serie A. Serviva a rifornire anche il mercato reggiano la droga sequestrata dai carabinieri a San Dalmazio sull'Appennino modenese. I carabinieri hanno sventato un traffico internazionale di stupefacenti gestito da un insospettabile postino di Sassuolo arrestato insieme a due complici. Denunciati quattro corrieri tra i quali un 36enne di correggio. Tre arresti e quattro denunce partiva da una piccola casa di montagna a San Dalmazio di Serra Mazzoni sull'Appennino modenese un vasto traffico internazionale di stupefacenti sgominato dai carabinieri. Al vertice dell'organizzazione c'era un postino 36enne di Maranello, Simone Vivi, arrestato insieme a due complici, un inglese Alexandre Volek e uno slovaco, Nicola Sinde. Per loro l'accusa è di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato ieri sera e i due stranieri erano arrivati nel pomeriggio all'aeroporto di Bologna. Alla stazione centrale era avvenuto l'incontro con Vivi, che le aveva poi caricati e trasportati fino a San Dalmazio. Ieri sera, quando abbiamo fatto irruzione in questa abitazione di San Dalmazio, ci siamo trovati al cospetto di due stranieri che avevano da poco evacuato oltre 300 ovuli di sostanza stupefacente proveniente dall'Inghilterra e dalla Slovacchia. Nel corso dell'operazione sono stati denunciati altri 4 uomini, tutti fra i 35 e i 40 anni, di Modena, Castelfranco, Castelnuovo Rangone e Correggio. Nell'abitazione, oltre allo stupefacente, sono stati sequestrati 14 mila euro in contanti. Quest'oggi alle 14 in chiesa Montecavolo i funerali di Brenno Orlandini, il partigiano Rammis, comandante di brigata del distaccamento Rosselli. Protagonista nel 45 nella difesa della centrale idroelettrica di Ligonchio, è morto all'età di 90 anni. A nome della comunità di Quattro Castella, il sindaco Andrea Tagliavini ha espresso cordoglio. Cambiamo argomento, istituzioni, associazioni, singoli comuni, tutti al capezzale del torrente Crostolo per aiutarlo a migliorare la qualità delle sue acque. Presto sarà siglato un patto per raggiungere gli obiettivi. Un gradito regalo di fine anno sarebbe quello di impegnarsi concretamente per ridare vita e dignità al torrente reggiano per eccellenza il Crostolo. È stato partecipato il forum promosso nella sede dell'amministrazione provinciale a Reggio per arrivare al patto per il Crostolo, chiamando in causa anche tutti i comuni attraversati da questo corso d'acqua, le associazioni ambientaliste, tutti impegnati per il recupero della qualità e dell'aspetto naturale, culturale, turistico ed economico del torrente. Nell'assemblea, coordinata dal consigliere provinciale Marcello Stecco, si è detto che la provincia sta lavorando in stretta collaborazione col Consorzio di Bonifica per la predisposizione di un bacino idrico nella zona delle ceramiche, allo scopo di assicurare un adeguato rifornimento idrico al Crostolo, soprattutto nei mesi estivi, quando il torrente si trasforma in un rivolo d'acqua scura e maleodorante, anche a causa di qualche sversamento di sostanze inquinanti non certamente autorizzato. Sarà necessario un rapporto tra le terre di Gonzaga e le terre di Matilde, con il Crostolo a fare da asse di collegamento. A conclusione dei lavori è stato deciso di elaborare un patto per ridare vita al Crostolo, comprendente obiettivi concreti con risorse e responsabilità relative, riconvocando i partecipanti al forum entro la fine del prossimo gennaio per la sottoscrizione di questo importante patto. Ed ora c'è la pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Prima di ripartire con le altre notizie del nostro telegiornale, rivediamo rapidamente i titoli di oggi. Doppia manifestazione dei sindacati sotto la pioggia, sfila la CGL per le strade di Reggio, presidio di Cisle Will davanti alla prefettura. Cinquantenne reggiano aggredisce commessa dei petali e scappa con dei gioielli, ma viene catturato dalla polizia poco dopo. Otto anni e otto mesi di condanna per l'ex calciatore della reggiana Michele Padovano, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Comuni e associazioni firmano un patto collettivo per cercare di migliorare la qualità del torrente crostolo. Continua la marcia trionfale del basket reggiano, la Trencvalde respugna anche Ostuni ed è prima in classifica. La reggiana perde anche in casa col Taranto e si trova in zona play-out. Approfitta di un permesso premio per fuggire. È accaduto a Reggio un detenuto all'ospedale psichiatrico giudiziario e sfuggito a due sanitari che lo sorvegliavano durante l'uscita premio. Si tratta di un algerino 45enne destinato all'OPG di Reggio fino all'anno 2023. Lo stavano accompagnando ad un centro commerciale, ma qui è fuggito a bordo dell'auto di un complice. I commercianti di Novellara insistono per il no alla realizzazione di un centro commerciale nella zona est del comune. Per questo hanno stilato un documento condiviso da circa una sessantina di esercizi sotto legida delle associazioni di categoria, confcommercio e confesercenti da presentare al comune come proposta alternativa al centro commerciale. Ed ora veniamo alla pagina sportiva. Per il basket la Trencvalde vince anche ad Ostuni e conferma dunque il suo primato in classifica. Per il calcio invece la reggiana perde anche in casa col Taranto ed è sempre più in zona play-out. La copertina doverosamente è nuovamente al basket con la Trencvalde che vince anche ad Ostuni espugnando i locali 88-83 e confermando il suo primato in classifica. Una gara piuttosto equilibrata nella quale però i biancorossi di Menetti hanno piazzato l'allungo decisivo nel terzo quarto dopo lo svantaggio dei primi due e mantenendo il vantaggio acquisito fino al suono conclusivo della Sirena. Ottava vittoria in campionato per la squadra reggiana che non può più essere chiamata solo la sorpresa di Lega 2. Notte di altro colore purtroppo per il calcio dove la reggiana invece appare in caduta libera dopo la sconfitta al Giglio 0-1 oppure con una squadra ambiziosa come il Taranto. Eppure i Granata avrebbero anche meritato il pareggio ma il gol è quasi allo scadere di Antonazzo e la scarsa precisione degli avanti reggiani hanno confezionato la sconfitta. Questa volta però una prova tutta ed edizione non è bastata, so perire alle evidenti carenze tecniche. Ora la classifica piange, la reggiana è sempre più in zona play-out e sarà dunque un Natale di riflessione e speriamo di riparazione al mercato di gennaio. Il paese di Baiso entrerà nella magica atmosfera natalizia con la seconda edizione dell'evento promosso dall'amministrazione comunale Presepi in vetrina che verrà inaugurato sabato prossimo 17 dicembre alle ore 17. Alla guida di Babbo Natale e tra i cori natalizi degli alunni delle scuole si percorreranno le vie del paese dove uno ad uno i presepi verranno illuminati e prenderanno vita. L'esposizione comprende 42 opere artistiche e artigianali allestite presso negozi, antiche botteghe, uffici, oratori, municipio e chiesa parrocchiale. Motivo di attrazione principale saranno i cinque presepi di Antonio Pigozzi, uno dei più apprezzati presepisti italiani. Gran successo ieri a Campagnola per la festa del Cicciolo d'Oro, record di concorrenti con 130 paioli in gara. Antonio Lecci. 12 anni fa la prima edizione del Cicciolo d'Oro a Campagnola i paioli erano appena a 13 in piazza Roma, in centro al paese. Ora dopo 12 edizioni appunto sono ben 130 arrivano dalla zona per far degustare i ciccioli a migliaia di persone. Oltre 10.000 persone a Campagnola per la dodicesima edizione del Cicciolo d'Oro, la festa popolare conclusa con la cottura del Cicciolo da record che deriva dal prodotto di tre enormi paioli fumanti per un peso complessivo di almeno 100 kg. Una manifestazione che già al mattino ha radunato le squadre di Norcini, arrivate da diverse province per la consueta gara del Cicciolo più buono realizzato con paioli su fuoco, a legna o a gas. Tanti gruppi di Norcini organizzati in squadre con tanto di divisa, ben 130 i paioli fumanti sulla piazza. Alla prima edizione di questa festa, come dicevamo, erano appena 13 e questo fa riflettere su come questa manifestazione si sia sviluppata nell'arco di poco più di un decennio non solo come presenza di pubblico ma come partecipazione attiva dei concorrenti che si mettono alla prova tra ricette segrete e tanta voglia di divertirsi. All'ora di pranzo non è mancato lo srotolamento della salsiccia da record lunga oltre un chilometro che è stata portata in sfilata da centinaia di volontari di ogni età creando un cerchio attorno a tutto il perimetro della piazza del paese. È stato uno dei momenti più coinvolgenti che ha divertito non solo gli adulti ma soprattutto i bambini per un rituale collettivo a cui nessuno dice di no. Le strade del centro si sono arricchite delle bancarelle con oggettistica antiquariato ma soprattutto prodotti tipici della gastronomia. Uno degli stand ha perfino mostrato le tecniche di preparazione della mozzarella servita più fresca che più fresca non si può praticamente realizzata all'istante e tra le novità anche i golosi cioccolati e l'ambrusco e perfino i cioccolatini al cicciolo ideati e prodotti da una pasticceria regiolese che hanno trovato ampio gradimento con un mix di sapori apprezzato dai visitatori della festa. Ed ora c'è di nuovo la pubblicità, noi ci vediamo tra poco. Il meteo è offerto da Tra la centralissima via Kennedy e via Piccard un angolo di arredamenti sorgente del mobile Migale il tuo negozio di fiducia dove può comprare anche un bambino Tempo previsto per la giornata di domani martedì 13 dicembre su reggio e provincia Prevista nebbia in banchi o estesa nel corso di tutta la giornata le temperature oscilleranno tra i 5 e i 10 gradi Teletricolore Meteo Il meteo è stato offerto da Tra la centralissima via Kennedy e via Piccard un angolo di arredamenti sorgente del mobile sorgente del mobile vi augura buone feste Ed ora siamo pronti a riepilogare le principali notizie del nostro telegiornale di oggi Doppia manifestazione dei sindacati sotto la pioggia sfila la CGL per le strade di Reggio presidio di Cisle Will davanti alla prefettura Cinquantenne reggiano aggredisce commessa dei petali e scappa con dei gioielli ma viene catturato dalla polizia poco dopo 8 anni e 8 mesi di condanna per l'ex calciatore della reggiana Michele Padovano per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga Comuni e associazioni firmano un patto collettivo per cercare di migliorare la qualità del torrente crostolo Continua la marcia trionfale del basket reggiano la Trencvalde respugna anche Ostuni ed è prima in classifica la reggiana perde anche in casa col Taranto e si trova in zona play out Ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito vi auguriamo una buona serata arrivederci